Radio Bari le 8 e 13 minuti, anzi 8 e 14 minuti in questo istante di martedì 26 novembre. Ancora ben trovati nel nostro spazio di approfondimento come vi avevo anticipato all'inizio della nostra puntata. Oggi prendiamo spunto dalla giornata di ieri che lo ricorderete è stata dedicata alla lotta contro il femminicidio. Femminicidio, parleremo oggi di femminicidio, ospiti due persone speciali, non a caso due donne. Ve le presento immediatamente alla mia destra una nostra vecchia conoscenza, la dottoressa Tina Bondanza. Buongiorno. Buongiorno. Alla mia sinistra invece Rosa Maria Scoresse, sorella di Santa Scoresse, uccisa nel 91 proprio dal suo stalker a soli 23 anni. 080 501 4668 è il numero per intervenire in diretta, potete fare domande alle mie ospiti o eventualmente redire la vostra o raccontare le vostre esperienze. Allora cominciamo subito a parlare fornendo dei dati, purtroppo i numeri sono freddi, ma a volte sono quelle cose che servono a dare contezza di un fenomeno che è in crescita. Ieri la regione ha fornito questi numeri, sono circa 20 i casi di violenze di cui ci si deve occupare ogni settimana, pensate 20 ogni settimana. E 20 sono solo quelli che magari vengono denunciati a fronte di tanti altri invece che non lo sono. E allora dottoressa cominciamo subito a parlare di questi dati, dati inquietanti. Il tema della violenza sulle donne è un tema trasversale. Innanzitutto bisogna specificare che non si parla di violenza sulle donne, ma di violenze sulle donne. Perché ne esistono tante. Si coniuga in vari modi, dalla violenza fisica, quella a cui pensiamo quando parliamo questa parola, poi c'è la violenza psicologica, la violenza economica, lo stalking, per arrivare poi al femminicidio, senza dimenticare la tratta delle donne a fine di sfruttamento sessuale, senza dimenticare il tema delle mutilazioni genitali femminili. Quindi il tema della violenza è un tema planetario. Perché parliamo di violenza contro le donne? Perché è una violenza specifica. Parlare di questa violenza non è come parlare di una rapina. Iscrivere il tema della violenza sulle donne all'interno del tema generico della violenza è sbagliato. La violenza sulle donne nasce dal rapporto di ispari tra uomini e donne. Per questo richiede un'attenzione ed una cura particolare. 080 501 4668, vi ricordo ancora una volta il numero per intervenire in diretta. Abbiamo già un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io mi chiamo Marco e volevo intervenire su questo argomento. Prego, prego. Io credo, temo purtroppo, che questo tipo di violenza, la quale non va solo specificata nei riguardi delle donne, ma a qualcosa di più ampio, violenza verso persone con disabilità, violenza verso persone anziane, violenza nei riguardi dei bambini, la pedofilia. Se noi, secondo il mio punto di vista, andiamo alla rigide di questo male, forse ci rendiamo conto che ha un'origine, come dire... Pronto? Non la sentiamo più. Prego il nostro ascoltatore di richiamare in modo che possa terminare il suo intervento. Allora, Rosa Maria, io le rivolgo un grazie particolare per essere qui questa mattina, per raccontare la storia che lei ha vissuto in prima persona con sua sorella. Immagino che, nonostante siano passati tanti anni, sia quel genere di ferite che non si rimarginano mai. Allora, raccontiamo brevemente la storia di sua sorella, anche se penso che tutti la conoscano, ma ricordarla non fa mai male. Sì, grazie innanzitutto per esservi interessati ed essere così sensibili anche alla storia di Santa. Una storia, in effetti, nata in un periodo in cui di stalking vero e proprio non si parlava. Cioè, non avremmo mai identificato con uno stalker quello che poi sarebbe stato l'assassino di Santa. Santa è una ragazza vissuta nella nostra città, in un quartiere molto popolare come il quartiere Libertà, che ha vissuto una vita, diciamo, nella norma, in una straordinaria però normalità. che ha percorso le tappe di qualsiasi ragazza della nostra epoca, che ha amato e che ha veramente vissuto con slancio ogni cosa, fino a dare tutto per amore. Con grande volitività ha percorso anche un cammino scolastico teso poi ad aiutare gli altri. Li voleva fare il medico, ha frequentato il liceo classico Orazio Flacco della nostra città, ha amato tanto gli sport, si è data al volontariato. Una ragazza, insomma, apparentemente come tante. Quando poi ci siamo trasferiti a Palo del Colle nel 1987, è cominciato un periodo particolare per lei. Innanzitutto già stava facendo tutta un'opera di discernimento, anche vocazionale, cioè già da ragazzina, proprio da preadolescente, si chiedeva cosa fare della sua vita, quale dono in effetti potesse essere per se stessa e per gli altri la sua vita. E ha intessuto anche dei rapporti, per esempio epistolari, importanti con persone adulte che potessero darle una mano. Queste lettere rappresentano ancora oggi un patrimonio importantissimo perché ne hanno svelato anche le caratteristiche spirituali. Certo è che Santa, da quando si inserisce, almeno parzialmente, nella vita della provincia, è abbastanza così sofferente, quindi va su e giù fra Bari e Palo, ma vuoi per le elezioni universitarie, vuoi per gli amici, i gruppi che frequenta e quindi il movimento dei focolari di Chiara Lubic, l'azione cattolica, le missionari dell'Immacolata Padre Colbe e poi comunque, insomma, i suoi ex compagni di liceo, eccetera. Un giorno viene seguita nel percorso fra la stazione e la cattedrale dove andava a trovare il suo ex professore d'inglese, nonché parroco Don Carlo Collasuonno, viene seguita da un giovane che lei non aveva mai incontrato, non aveva mai conosciuto e che si rivelerà poi appunto il suo autentico persecutore. Per tre anni Santa viene continuamente proprio braccata da questa persona, che poi è risultato essere stato anche in un gruppo vocazionale della nostra città, ma rifiutato. Quindi probabilmente una sorta di reazione o comunque una patologia già preesistente, fanno in modo che lui, più Santa cercava di fare appunto discernimento e si elevava verso un ideale d'amore che avrebbe pervaso tutta la sua vita, più lui, pur non conoscendola e non sapendo esattamente cosa Santa stesse facendo, si accaniva a volerla possedere in tutti i sensi. Tanto da, oggi diremmo, insomma, con atteggiamenti classici dello stalker, mandarle, inviarle bigliettini, appostarsi continuamente, era onnipresente, credetemi proprio onnipresente nella nostra vita, io dico nella nostra perché appunto noi non abbiamo mai lasciato sola Santa, Santa pur essendo uno spirito libero veramente, non ha mai più avuto la possibilità di girare un attimo da sola. Tre anni, tre anni tutti i giorni, questa limitazione importantissima a quella che è la libertà di una ragazza che nel frattempo aveva cambiato facoltà all'università e da medicina era passata a pedagogia perché aveva concepito l'idea che potesse essere medico più delle anime che dei corpi. E quindi, nonostante tutte le denunce firmate di pugno da Santa, nonostante gli interventi anche presso il Tribunale, e papà era un poliziotto, un sovraintendente di pubblica sicurezza in servizio, prima in questura, poi anche al Tribunale di Bari. Quindi abbiamo elemosinato in qualche modo da uno Stato impotente in quel momento, aiuto, protezione che è stata veramente limitata per quelle che erano le possibilità del tempo. Dopo aver ricevuto l'ultima lettera, pesantissima, nella quale appunto quello che sarebbe stato l'assassino le diceva o mia o di nessuno e assolutamente non di Dio, Santa una sera, la sera del 15 marzo 1991, tornando da una catechesi in parrocchia, l'unica volta in cui aveva detto agli amici, al parroco, alle persone che erano con lei, che non c'era bisogno che l'accompagnassero perché aveva l'automobile proprio là davanti alla chiesa, aveva anche riso sul fatto che al massimo sotto casa chi poteva trovare, insomma, Giuseppe, è tornata e nel cortile di casa in realtà ha trovato il suo assassino, colpita con numerosissime coltellate. Nel frattempo probabilmente aveva suonato al citofano, al citofano mamma e papà l'aspettavano per cena, papà non ha sentito nessuno rispondere, si è affacciato al balcone ed assistito, ovviamente sconvolto e del minimo, alla scena dell'assassino e della figlia. Si è precipitato per le scale, quindi Santa soccorsa, portata da noi, dalla famiglia al policlinico e poi morta nella notte fra il 15 e il 16 marzo durante un estremo tentativo di intervento chirurgico. La cosa che più mi ha colpito di tutta questa storia è che le ultime parole di Santa sono state di perdono verso il suo assassino. Sì, lei ha chiesto esplicitamente di poter incontrare quello che era il suo confessore per poter eventualmente dirgli qualcosa di importante e nel frattempo io nel passaggio fra il pronto soccorso e la rianimazione le ho chiesto di pregare insieme a me e non era una preghiera di supplica, devo dire, non lo dico da persona bigotta o che, era proprio un affidamento totale conoscendo Santa che tra l'altro aveva detto qualche giorno prima di fronte a quell'ultima orrenda minaccia aveva detto al suo confessore, al suo amico, a Dontino Lucariello sappi che qualunque cosa mi succeda io ho scelto Dio. Questo non era un atteggiamento di rassegnazione, Santa si è anche molto arrabbiata nei periodi in cui appunto nulla sembrava essere possibile per arginare questa persecuzione vera e propria. Non si è mai arresa, ha denunciato, è stata un'antesignana delle donne che volevano offrirsi un'ulteriore possibilità e soprattutto voleva che ci fosse un atteggiamento di protezione da parte dello Stato, di giustizia. Del resto Santa si è rivolta anche personalmente al servizio di igiene mentale laddove Giuseppe avrebbe dovuto essere curato, sottoposto a un trattamento. Tra l'altro io considero che anche quello che è stato il persecutore di mia sorella sia ancora oggi un anello debole di una mancanza da parte di tante dell'istituzione, dello Stato vero e proprio. Cioè andrebbero protette anche queste persone, almeno nel caso di persone instabili come è stato l'assassino di Santa che ha reso a Santa, ma a tutti noi, agli amici, a una comunità intera, la vita veramente è un inferno e non cambierà mai. Per Santa però è aperto un processo di beatificazione. Lo avrei detto tra un po'. Prendiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Allora, è proprio nella mentalità dell'uomo essere violenti verso le donne. prima i nostri padri, possessivi, autoritari, anche nella maniera sbagliata. I nostri mariti hanno imparato dai loro padri, adesso tocca a noi mamme. Io ho sempre insegnato, io ho un figlio di 38 anni, da quando era ragazzino ho sempre insegnato a rispettare, perché rispettare gli altri è anche rispettare se stessi. Io ho sempre detto a mio figlio che se dovessi combinare qualche pasticcio, umilare una donna, offenderla o aggredirla, io sarò la prima a condannarti e tu devi pagare le spese, perché molte mamme dicono che me ne importa, quello è maschio, può fare ciò che vuole, non è giusto, non è corretto. Per quanto riguarda quei ragazzi di Molfetta, io li metterei in piazza, tutti li dobbiamo vedere, bisogna colperbolizzare anche i genitori, perché i genitori dal di fuori devono capire i figli cosa fanno e di che natura sono. La colpa è anche di noi mamme, perché intanto va fuori, deve divertirsi, lo vogliono le ragazze, non è vero, insegniamo i nostri figli ad essere civili, uomini e donne. Grazie mille signora per il suo intervento. Dottoressa, vuole commentare le parole della nostra ascoltatrice? Io sono convinta e l'ascoltatrice lo ha detto bene, che il tema della violenza sulle donne ha delle radici molto profonde, si inscrivono all'interno del rapporto tra uomini e donne, all'interno di una cultura in cui l'uomo è superiore alle donne o era superiore alle donne, dove la donna è una proprietà prima del padre e poi del marito e non è un caso che il 70% delle violenze sulle donne accadono in famiglia, che è il luogo in cui i rapporti di vicinanza tra un uomo e una donna svelano la profonda conflittualità. Un uomo dice di una donna tu sei mia, la mia signora, al tema dell'amore si sostituisce il tema del possesso. Nella comune visione dell'amore, che è una visione assolutamente sbagliata, c'è il tema dell'uomo che vive la donna come un oggetto, un appendice di sé. In questo devo dire è molto aiutato, in alcuni casi dalla cultura familiare, in molti casi anche dagli stereotipi che i media ci mandano. C'è una persona di 75 anni che fa dei festini a casa sua, avendo rapporti sessuali con una minorenne e che riceve ancora l'approvazione della gente, è un personaggio che insinua e fa capire a tutti quanto le donne possono essere oggetto, quanto le donne possono essere al servizio della sessualità maschile. E credo che tutto questo ha delle radici, sicuramente di tipo psicologico, perché l'uomo e la donna si forma in un modo diverso. Però ha delle radici profondissime all'interno della cultura, per cui per prevenire questo fenomeno terribile è necessario, come diceva la signora, innanzitutto un atteggiamento culturale familiare in cui la donna e l'uomo vengono trattati alla stessa maniera. Ma è anche importante lavorare nelle scuole. Se voi prendete i sussidiari dei bambini e parlate, vedete l'uomo primitivo, vedete che l'uomo primitivo sta fuori con la pelliccia, con la clava e lui quello che porta da mangiare, eccetera. Le donne sì e no sono rappresentate dentro la grotta vicino al focolare. Così non è, perché le donne hanno inventato l'agricoltura, le donne sono state le prime che hanno cominciato ad allevare il bestiame. Però la storia non ci rende ragione di questo, per cui viene rappresentata, allora come adesso, come una appendice del maschile. E credo che questa sia una radice profonda, per cui oggi gli uomini che non possono più esercitare il loro potere come prima, gli uomini che vedono le donne che raggiungono gradualmente la parità, i diritti, si inseriscono nel mondo del lavoro, sentono fortemente messa in crisi il loro dominio virile. Io un'altra piccola cosa volevo dire a proposito del commento che faceva l'altra rappresentante in studio rispetto alla psicopatologia degli autori di violenza. Io sono una psichiatra e nella mia vita ho visto tante persone. È troppo comodo dire che gli uomini violenti hanno dei disturbi psicopatologici. È troppo comodo dire che è un po' la follia di queste persone che in qualche modo giustifica. La follia in alcuni casi c'è, è inutile negarlo, bisogna discernere caso per caso, però il 70% degli uomini che usano violenza sulle donne sono persone assolutamente normali. Sono magistrati, sono professori, sono poliziotti, sono i nostri vicini di casa, sono il negoziante che abita all'angolo di casa nostra. E vi garantisco che di matto non hanno niente, anche se adesso per esempio tutti tendono, nelle perizie psichiatriche, a far passare il tema dell'infermità mentale, cosa che non è assolutamente vera. Dottoressa, la interrompo perché abbiamo, credo, il nostro primo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, rieccoci. Buongiorno, sento, siamo al tuo primo, volevo completare il mio intervento. Sì, 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 prego, prego. Le chiedo solo di essere sintetico. Dottoressa ha fatto un intervento acuto, però io volevo dire, è chiaro, si parla fondamentalmente delle donne, ma ripeto, le forme di violenza sono anche verso una persona disabile, verso un anziano, verso, purtroppo, ciò che si è sentito al servizio pubblico, forme di violenza nei riguardi tipo fedopenia, forme di violenza nei riguardi di chiedevole. E tutto questo, secondo me, ha un'origine di vigliaccheria. Nel senso che io faccio questo perché posso con te permettermi di farlo. Come fa una donna proprio fisicamente a potersi difendere dalla violenza di un uomo? E queste categorie di persone, che ho detto prima, anziani, disabili, bambini e donne, dovrebbero essere tutelate. In realtà questo non avviene. La chiedo di concludere. Io faccio questa cosa con te perché posso permettermi di poterlo fare perché sei più debole di me. Perfetto, grazie. Grazie mille per il suo intervento. Ci perdoni se la blocchiamo, ma il tempo è tiranno. Io ho bisogno anche di dare spazio agli altri ascoltatori e soprattutto alle mie ospiti. Prima la nostra ascoltatrice ha parlato dell'arresto ieri dei quattro ragazzi di Molfetta che facendo parte di un gruppo di dieci tra i 18 e i 24 anni, tre erano anche minorenni, hanno violentato ripetutamente una ragazza di 14 anni. La cosa che mi ha fatto più pensare di tutta questa storia è che dicono che tutto sarebbe nato da un falso profilo Facebook in cui la ragazza si dichiarava disponibile a tutto. Ma può bastare una cosa del genere? È sempre colpa delle donne, naturalmente. Si mettono la minigonna, escono tardi la sera, fanno i profili. In fondo se la tirano la violenza. E questa è la giustificazione culturale dei maschi. Per voi ogni volta che sentite queste cose è un po' come rivivere ciò che avete... Anche di Santa è stato detto in ambienti abbastanza elevati. E vabbè, ma in fondo se si metteva la gonna più corta, a parte che mia sorella non si è mai messa una gonna più corta, e anche se l'avesse fatto... Ma anche se l'avesse fatto. Esattamente. Ma detto subito dopo la morte di Santa e di una ragazza che quotidianamente andava anche a messa, questo non è che preservi chiaramente da chissà che cosa, però c'è una sorta di gravissimo pregiudizio nei confronti proprio delle donne in genere. E questa cosa assolutamente non è proprio... Cioè a me fa ribollire veramente il sangue nelle vene, considerato appunto che l'ho vissuto sulla pelle e sapendo che tipo di impegno anche sociale, oltre che il tipo di morale, il tipo di... veramente di vita che tantissime ragazze, pensiamo a Stefania Noce per esempio in Sicilia, una ragazza impegnatissima sul piano proprio del sociale, del lottare anche contro il femminicidio, insomma una storia di due anni fa, voglio dire, quindi ci sono tantissime persone, io parlo proprio di persone che non penserebbero mai davvero a tirarsela o a provocare. Quindi assolutamente non si può giustificare affermazioni del genere o comportamenti del genere legati agli atteggiamenti delle donne, assolutamente no. Dottoressa, parliamo di un branco, quello di cui si è parlato ieri, di 10 persone tra i 18 e i 24 anni di cui 3 minorenni. È sintomo di qualcosa questo, di un fenomeno che si sta evolvendo in maniera negativa ovviamente sempre di più? Io credo che è la spirale di una difficoltà dell'uomo a trovare oggi la sua identità. Gli adolescenti di oggi non hanno questi modelli antichi rispetto a questi padri affermati, virili, eccetera. Spesso questi ragazzi, questi maschi di oggi si devono confrontare con l'assenza di figure paterne o con la presenza di figure paterne abbastanza complicate, di figure paterne ambigue legate al fatto anche che le donne stanno facendo un loro percorso emancipativo. Questo significa che i modelli identitari sono diminuiti. Il fatto che 10 ragazzi abbiano potuto usare violenza su una minorenne la dice lunga sulla difficoltà di queste persone di immaginarsi come persone potenti, come persone virili. È l'assenza della virilità, la mancanza di una loro proiezione positiva del maschile che poi li spinge in gruppo soprattutto dove si devono confrontare. Voi sapete che i maschi spesso si confrontavano sulla lunghezza del pene, sulla capacità di erezione e la violenza esibita davanti agli altri è anche un modo assolutamente malato di acquisire virilità. Io credo che è importantissimo andare a guardare dietro questa violenza perché dietro ogni violenza c'è sempre un grande dolore, un dolore che va a letto. Questo non giustifica i violenti, intendiamoci. Nessuno li vuole assolvere, però non possiamo neanche dire non ce ne importa niente. Tutti possiamo fare qualcosa per cambiare questo accattivo modo di intendere l'amore tra un uomo e una donna. Rosa Maria, come si vivono quei momenti? Qual è la paura? Cosa significa uscire di casa pensando, avendo paura, che c'è qualcuno che ci segue, qualcuno che vuole farci del male? Ovviamente intrinseca la risposta, assolutamente in maniera convolgente, con un grande senso di impotenza, con terrore addosso e non solo di santa, tutta la famiglia stolchizzata. sapendo che forse il giorno dopo succederà qualche altra cosa e cercando di avere un atteggiamento anche rasserenante nei confronti della vittima, ma con la piena consapevolezza che in realtà non sei serena nemmeno tu, con certe volte veramente anche un grande senso di umiliazione, davvero di umiliazione e di paura costante. Molte ragazze, molte donne non denunciano non solo per paura, ma anche per vergogna. Dottoressa, vogliamo dire qualcosa a queste ragazze che magari ci stanno ascoltando, qualcuna di loro vive delle situazioni del genere? In genere il tema della vergogna per le donne è molto collegato al sentimento della colpa e la società ci fa sentire naturalmente in colpa, dalle minigonne alle uscite serali, quindi se un uomo ti violenta, un po' è colpa tua. Questo movimento che è culturale però ha una grande risonanza emotiva nella vita delle persone, cioè le donne in qualche modo pensano che loro possono fare qualcosa per evitare la violenza, per evitare di provocarla questa violenza e inevitabilmente quando la violenza si scatena loro pensano di avere fallito, di questo loro si vergognano, ma questo tema della vergogna è un tema che tocca tutte le donne, quando noi andiamo nei pullman e quelli ci palpeggiano e ci mettono la mano sul culo, invece di arrabbiarci e di sputtanarli, noi ci allontaniamo in silenzio, significa che dentro di noi se possiamo evitare di farci notare, lo facciamo. Il tema della vergogna è una forza per le donne, devono capire le donne che hanno diritto all'integrità del loro corpo, hanno diritto alla libertà del loro desiderio, hanno diritto di essere persone e chiunque viola questi diritti commette un reato, per cui anche chi ti palpeggia nel pullman commette un reato e hai il diritto, dovere di denunziarlo. Purtroppo siamo fuori tempo massimo, io avrei voluto dedicare molto più tempo a questa puntata, abbiamo rubato qualche minuto a Cristian Siciliani per parlare del Bari, ci perdonerà così come ci perdoneranno i tifosi, ma l'argomento è davvero importante. Io ringrazio le mie ospiti per essere state qui con me questa mattina, ringrazio Rosa Maria Scoresa, ringrazio la dottoressa Tina Abbondanza, ringrazio voi per averci seguito e mi scuso se non ho preso tutte le chiamate, ma mi sembrava corretto far parlare oggi le nostre ospiti. Grazie ancora per averci seguito, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare del Bari.